Sabato 20 ottobre, Voglia! Le Rotonde Disco Club presenta 50 sfumature di Rocco Una serata dedicata al seducente mondo degli intrighi erotici Sabato 20 ottobre, al Disco Club Le Rotonde di Garlasco, Rocco Siffredi Dalle 21 e 30 approfitta della formula cena più disco con Rocco Siffredi Due sale all'insegna della migliore musica di sempre Info e prenotazioni al 331 29 92 776 Disco Club Le Rotonde, via Leonardo da Vinci 48 Garlasco Pavia a 20 minuti da Milano Autostrada a 7 Milano Genova, uscita Groppello Cairoli